Quinto anno, 433 licee in tutta Italia, 9 in Umbria, tra cui il Mazzatinti di Gubbio che nella regione cuore verde d'Italia fu pioniere dell'iniziativa. Torna l'11 gennaio prossimo, la notte nazionale del liceo classico, nata in Sordina 5 anni fa da un docente siciliano che voleva difendere il valore della formazione umanistica davanti allo strapotere della scienza, divenuta nel tempo evento di rilievo nazionale con partner di tutto rispetto come Re Cultura e Re Scuola. A Gubbio, dove l'indirizzo classico del Mazzatinti fa da regista con la coordinazione della professoressa Daniela Giacometti, la declinazione dell'evento coinvolge tutti gli altri indirizzi, scientifico, scienze umane, artistico e sportivo. La notte nazionale del liceo classico di Gubbio è diventata nel tempo la notte nazionale del liceo. Il liceo classico è il motore dell'intera iniziativa, ha determinato il tema che verrà affrontato durante la nottata appunto e ha costretto tutti gli altri licei, che in questo caso sono di supporto al loro lavoro, ad adeguarsi a quello che è il tema prescelto, che quest'anno è il dialogo, l'arte della parola al bivio. Quindi una nottata densa di grandi significato, di grandi ospiti, ma anche di tante attività che i ragazzi hanno messo in campo. Si parte venerdì 11 gennaio alle ore 17.30 con i saluti istituzionali del sindaco Stirati e della presidente del Consiglio regionale Donatella Porzi. Ci sarà anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli, che insieme a Regione e Comune patrocinano l'appuntamento. Quindi spazio l'Alezio Magistralis dell'ospite di quest'anno, il giornalista Piero Badaloni, sul tema dato alla serata, il dialogo, l'arte della parola al bivio. L'ospite è un ospite importante, è Piero Badaloni, un giornalista che della parola ha fatto il suo mestiere, il suo lavoro, è ancora in attività, ha un lavoro a TV2000, ha fatto il caporedattore a Rai 1, ha condotto programmi di successo, quali Piacere Rai 1 o 1 Mattina, ed è un testimonial interessante e importante proprio per declinare al meglio l'uso della parola. Molte le attività dalle 20.45 fino allo scoccare della mezzanotte, con rivisitazioni di format televisivi, dal Porta ad Portam al C'è posta per te, passando per il grande inferno VIP. Riflessioni su temi come l'incomunicabilità, ma anche laboratori, performance di arte ed attività fisica in palestra. La chiusura alle 23.45 sarà affidata in contemporanea in tutta Italia alla lettura del testo greco Lamento dell'esclusa, l'amore raccontato da una donna non ricambiata. Numero speciale per l'occasione del giornale scolastico Invio nel corso della serata, sarà possibile per chi lo vorrà anche iscriversi per l'anno scolastico 2019-2020. La segreteria resterà aperta per l'intero svolgersi dell'evento.